Pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, in articoli aggiuntivi dell'articolo unico del segno di legge di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, numero 210, nel testo approvato dalle Commissioni. Grazie, Ministra. Chiede di intervenire per richiamo al regolamento, onorevole Cozzolino. Prego. Grazie, Presidente. Chiedo ai sensi dell'articolo 85,4 di poter intervenire a titolo personale di cinque minuti sugli emendamenti. Grazie. Ora, a seguito della posizione della questione di fiducia, adesso, onorevole Cozzolino, dobbiamo convocare una riunione dei capi gruppo, una riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per le ore 15 per definire l'articolazione del dibattito fiduciario. La seduta riprenderà al termine di tale riunione. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.